Buongiorno a tutti. Apprese dai siti le parole di Paolo Maldini, sono personalmente intanto veramente contento per le belle parole che il direttore dell'area sportiva del Milan ha rivolto a Stefano Pioli. Quelli siamo veramente contenti del lavoro di Stefano Pioli rappresenta molti e rappresenta tutti coloro che stanno apprezzando la buona fede, i miglioramenti, i contributi effettivi che Stefano Pioli ha portato. Del resto le parole di Paolo Maldini di oggi confermano che la società non ha guardato all'allenatore dopo il 5-0 di Bergamo, tant'è che dopo il 5-0 di Bergamo è stata fatta politica societaria con l'arrivo di Ibra, con l'arrivo di un totem non giovane in una squadra molto e certamente troppo giovane a dicembre e che dopo il derby l'analisi di Paolo Maldini è partita ancora dai saliscendi che a volte capitano nel calcio e dalla giovane età della squadra. Per cui sono arrivati Ibra e Chiaer nel corso del mercato invernale ma Paolo Maldini sottolinea il fatto che il mix fra giovane età e non giovane età deve essere ancora più equilibrato all'interno dei primi undici e all'interno della rosa. Paolo Maldini ha fatto un quadro realistico, chiaro, di quello che è stato il mercato invernale del Milan. La sottolineatura sulla rosa meno folta e il monte ingaggi che cala è una sottolineatura importante, doverosa. Il Milan ha ceduto giocatori che sapeva in corso che non avrebbe più recuperato e quindi il fatto che comunque all'appello del 2020, stiamo parlando di una squadra che dopo Ibra all'appello del 2020 manca veramente solo il secondo tempo del derby. Perché il pareggio con la Sampdoria è un risultato figlio ancora di Bergamo e figlio dell'assestamento dell'arrivo di Ibra. Poi il Milan ha sempre vinto, è vero, ha pareggiato col Verona. Il Milan poteva perdere col Verona ma poteva anche vincere contro un Verona che ha costretto la Lazio al pari e che ha battuto la Juventus. Quindi anche quello, anche se non fa piacere, anche se i tifosi non l'hanno mandato giù, anche quello ci sta. Grande, grandissimo primo tempo nel derby, male, malissimo, bruttissimo secondo tempo del derby. Ci sono degli errori, soprattutto sui primi due gol fatti dall'Inter e soprattutto sul primo, che fanno parte di questa squadra. Per cui la società, esattamente come dopo Bergamo, non va sull'allenatore. Mentre si era capito, fin dopo Udine con Giampaolo, che il mirino della società era sull'allenatore e non sulla squadra, sia dopo Bergamo, 22 dicembre, sia dopo il derby, quasi due mesi dopo, la società, la parte tecnica della società mostra di aver capito che il tema non è l'allenatore, non può essere allenatore, anzi, siamo veramente contenti del lavoro di Pioli, francamente. Mi fa molto piacere per Stefano Pioli e rappresenta un quadro realistico e credibile della situazione. È la squadra che non deve lasciare soli i giocatori avversari in un momento delicato, non solo della partita, perché all'inizio del secondo tempo del derby non era un momento delicato solo di quella partita, ma di tutta la stagione. La sottolineatura rispettosa rispetto a Rangnick fa parte del bagaglio tecnico e culturale di Paolo Maldini. Rangnick è un santone nel calcio tedesco, per cui Paolo Maldini ha detto ne parlo con rispetto, non mi sembra il profilo adatto al Milan. È un concetto che io personalmente conosco da un mese, è da un mese che per le mie fonti mi viene totalmente ripetutamente smentito questo nome con tutto il rispetto. Quindi Paolo Maldini non usa toni secchi nella smentita, perché si tratta comunque di una figura di riferimento del calcio tedesco in questo momento. Parlare di Rangnick in Germania è come parlare di Lippi Ancelotti in Italia, Murigno in Portogallo, Blanchi in Francia, eccetera eccetera eccetera, Blanche Deschamps in Francia, eccetera eccetera eccetera. Quindi la sottolineatura mi sembra rispettosa. Le parole di Paolo Maldini sono la conferma che la società è sul pezzo, la giornata è iniziata con una ridda clamorosa di voci, ci sono delle voci che fanno anche persino tenerezza, non le cito, ma ci siamo capiti. Quindi di fronte all'andirivieni delle voci vocine e vocette la società non poteva oggi rimanere in silenzio e non l'ha fatto. Oggi naturalmente ha parlato anche Stefano Pioli, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni della Rai e ha parlato ai microfoni di Minantivi e nel corso del tardo pomeriggio e della serata conoscerete le sue impressioni, in primis in quanto Rai Solder, detentori dei diritti sugli schermi Rai e poi a seguire a stretto giro sugli schermi di Minantivi. Ma è uno Stefano Pioli, quello che abbiamo percepito oggi, totalmente e solamente concentrato sulle competizioni, la Coppa Italia, la squadra, la Juventus, le partite, non c'è nessun tipo di smarrimento da parte di Stefano Pioli rispetto alle voci che si sono lette questa mattina sui giornali, Stefano Pioli è concentratissimo sul lato tecnico della squadra, che è una squadra che, e qui torno a parlare delle mie sensazioni, delle mie impressioni puramente personali, non è una squadra che improvvisamente nel derby ha avuto un blackout. Se fate bene mente locale, il blackout molto più doloroso dal punto di vista fisico per via del derby, che abbiamo avuto nel secondo tempo con l'Inter, era più o meno lo stesso che avevamo avuto in Coppa Italia col Torino, perché anche in Coppa Italia col Torino il Milan era in vantaggio, era in totale controllo della partita e stava dominando e poteva fare il secondo e il terzo gol quando voleva. Poi improvvisamente, come si dice a Milano tra il Lusco e il Brusco, Bremer ha fatto due gol. Non figli della partita, ma figli degli episodi. Poi è chiaro che in un derby, in un derby in campo tra virgolette avversario, anche se i nostri tifosi sono stati fantastici, sono fatti sentire anche nel derby e saranno in 72.000 chapeau contro la Juventus, nel derby poi è chiaro che attorno all'episodio del gran tiro di Brozovic, poi l'Inter è in grado di costruirci una partita, una rimonta, tutto quello che sappiamo, tutto quello che abbiamo ruminato in questi giorni. Però adesso dobbiamo avere una forza che è quella di basta derby e andare in campo con la Juventus e pensare alla Juventus. Attenzione, perché questo errore l'abbiamo già fatto la scorsa stagione. La scorsa stagione noi perdiamo il derby del gol di Icardi al 92esimo e ce lo portiamo dietro fino al Betis e perdiamo col Betis e usciamo dall'Europa League. Adesso, anch'io ho fatto questo errore, non lo faccio più, basta parlare del derby, pensiamo solo alla Juventus, perché la Juventus è una partita importante, si riparte da 0 a 0. È inutile andare in campo con la Juventus frastornati dal derby, è inutile, perché se no rischiamo di compromettere con la Juventus, che è già forte di suo, è già favorita di suo, la Coppa Italia, dopo che l'anno scorso, dopo il derby d'andata, compromettemmo l'Europa League con il Betis di Siviglia perdendo in casa il gol. Quindi dobbiamo essere bravi in questo momento. Abbiamo fatto degli errori tecnici di campo dopo un primo tempo splendido e naturalmente l'Inter di quest'anno è fortissima, per cui gli errori non è che non te li fa pagare, te li fa pagare, per cui li abbiamo pagati. Però Stefano Pioli sta facendo un lavoro di cui tutto il Milan è contento. I giocatori devono continuare a mettere la loro professionalità e nei momenti topici della partita essere più serrati, più coesi, più compatti, più svegli, più adrenalinici, più elettrici, quello che non eravamo sui primi due gol dell'Inter. E quindi questa cosa dobbiamo fare in campo con la Juventus. Non pensare al derby, ma mettere in pratica quello che è successo nel derby, che è la cosa più importante. Dopo le parole di Paolo Maldini, dopo le ore di riflessione della settimana e prima delle parole di Stefano Pioli, che vedrete nel tardo pomeriggio sera, in primis sugli schermi Rai e poi su Minan TV, il club channel del Milan e sulla app rossonera e simile. Official app.